Buongiorno a tutti, noi ci siamo conosciuti nel precedente mandato e ho portato i saluti anche nel precedente congresso con un'altra giacca, la delega al decentramento, quindi è un piacere rivedervi, è un piacere essere qui con voi, vedo che siete sempre numerosi, quindi la tempra non manca e anzi il lavoro che Hauser svolge sul territorio ha incrementato il numero delle attività e dei volontari nel corso del tempo. Volevo ringraziare anche Mirella che è sempre presente e disponibile al dialogo con la nostra amministrazione, alla costruzione e l'individuazione di nuove strade, oggi che invece pare che le strade sia molto più semplice chiuderle, costruire muri sia molto più facile che costruire ponti di comunicazione, quindi un alleato prezioso anche nella costruzione di una cultura del volontariato e credo che proprio il tema della legge regionale a cui facevi riferimento tu e dell'impegno rispetto al servizio civile vada nella direzione di contribuire a costruire un'altra cultura di impegno nella comunità. Noi peraltro abbiamo appena riassemblato anche all'interno dell'amministrazione in un processo di riorganizzazione in un unico ufficio tutta la partita che riguarda il servizio civile e l'idea è proprio quella di aprire non solo alle attività, non solo anche a attività inedite che non erano, come dire, non sono state programmate nel territorio, che non erano svolte, ma si tratta proprio di contribuire a promuovere maggiormente questa opportunità facendo leva su un bacino fondamentale che è quello delle organizzazioni del volontariato e questa ovviamente è una richiesta che facciamo qui in questa sede che dovrà essere stesa alle altre organizzazioni di volontariato del territorio, è un'opportunità per contribuire a tramandare un valore che si sta perdendo perché come veniva correttamente detto il volontariato, l'impegno nella comunità anche attraverso azioni di prossimità, di vicinato è un valore che si sta un po' perdendo e sul quale è necessario lavorare ma ci concentreremo nel prossimo passaggio, il servizio civile diventa quella chiave di volta che ti consente di mettere in relazione le giovani generazioni, il tessuto del volontariato nel territorio e la pubblica amministrazione che deve organizzare e promuovere sempre di più questa come chiave di collegamento e di comunità e di costruzione di tessuto di comunità, quindi noi ci siamo e siamo ben felici appunto che l'orientamento della normativa pronunci parole molto chiare in questo senso, siamo pronti ad attivarci insieme a voi.